buongiorno a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video oggi siamo qui in una delle più belle attrazioni della svizzera le golle della via mala la giornata non è delle migliori però il clima è molto fresco e le nuvole creano un paesaggio molto suggestivo questo bellissimo percorso sentiero qua in mezzo alle gole adesso vediamo anche le cascate con i giochi d'acqua peccato qua un po per i lavori in corso però ci sta bisogna fare manutenzione ponte sulla gola prendiamo questo ponticello caspita le gole spettacolari è un'emozione indescrivibile passare per queste gole a Grazie a tutti. Ah, è chiuso qua. Che sfiga, come si fa a proseguire? Ora bisognerà arrampicarsi qua. Ah, bisogna prendere il ponte là sopra, mi sa. E però là sopra le nostre teste. Finito, finito. Ragazzi, qui si è messo a piovere bene. Io sto rientrando dalle gole della via Mala. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.